Teodosic ancora penetrazione dietro la schiena per Ricci dall'angolo la tripla di Pippo Ricci ma l'assist dell'anno da parte di Milo Teodosic carriera ma ancora non ci siamo abituati alla bellezza delle cose che inventa io una roba del genere non so se l'ho mai vista no voglio rivederla voglio rivederla perché solo lui sapeva che c'era Gian Paolo Ricci Grazie a tutti